cari amici di mille un'avventura siamo alla vigilia dell'epifania e di solito questo evento è legato alle calze e alla befana perciò in questo video andremo a vedere che cosa ci ha proposto andrea livi per quanto riguarda proprio questa questo personaggio e domani probabilmente vedrete il video così saremo proprio in tema il 6 gennaio e come sapete la befana viene di notte con le scarpe tutte rotte ma avremo dovuto da programma parlare di kerbal space program infatti oggi sull'epic games store dovrebbe essere tra poco alle 5 sbloccato gratuitamente il programma kerbal space program assieme a shadow tactics icos choice a noi interessa kerbal space program perché è un interessante programma simulativo in cui si cerca di realizzare un programma spaziale che ci porterà a visitare la luna di questo particolare pianeta e forse anche il marte collegato e si possono costruire vari veicoli spaziali gli abitanti di questo pianeta sono questi omini verdi questo pianeta rosso ricorda molto marte e quindi è un programma che ci ha sempre interessati siamo riusciti a giocarlo tanto tempo fa e oggi avremmo dovuto mostrarlo ma facciamo vedere invece un altro programma se volete qualcosa su kerbal space program a parte il sito e il fatto che tra poco potrete davvero giocarlo in prima persona senza acquistarlo perché epic games ci regala la versione base e siamo sempre in attesa di kerbal space program 2 che da tre e più anni è annunciato ma che non abbiamo ancora visto ecco c'è un video su questo argomento di cinque anni fa cinque anni e mezzo fa l'avevo un po giocato e quindi vi lascio qui sotto in descrizione il link per vedervi atterraggio morbido eccolo qui è il video in pratica si mostravano i primi passi è il tutorial su come costruire una un piccolo razzo e come farlo poi decollare ecco qui che vediamo che parte almeno spero e quindi il tutorial vi conviene farlo perché è un programma davvero complicato bisogna essere ingegneri aerospaziali per poterlo ecco lì il razzo che parte con valentina carman a bordo e chissà se riuscirà ad arrivare a terra sana e salva comunque ve lo godete voi e magari le prossime settimane cercheremo di portare questo programma in nel sul canale con qualche cosa di un po più avanzato rispetto al tutorial di base quindi in realtà in questo video in alternativa parleremo di quick basic 64 è una versione del famoso q basic che era a disposizione negli anni 90 su windows e a questa interfaccia caratteri adesso ve la mostro eccola qui un'interfaccia caratteri caratteristica dell'epoca qui c'è un programma i gorillas.bus che era un programma di base che si trovava assieme al quick basic della microsoft con cui si poteva giocare adesso lo andiamo a vedere perché parliamo di quick basic perché andrea livi si è dato la pena di creare un programma dal titolo befana.exe quindi l'andremo sicuramente a vedere e concluderemo il video così augurandovi buona epifania prima però andiamo a vedere gorilla.bus come era all'epoca vediamo se riesco dunque in pratica uno scrive il programma poi con run viene compilato direttamente e poi anche eseguito io l'avevo compilato e probabilmente lo troverò da qualche parte eccolo qui vediamo se riusciamo a vederlo eccolo lì che è partito dalla schermata sbagliata lo riportiamo qui ecco q basic gorillas copyright 1990 quindi in realtà altro che anni 90 fine anni 80 inizio anni 90 e premendo un tasto giocatore 1 leo giocatore 2 con punti totali va bene 3 la gravità in metri al secondo 9,8 si può vedere l'introduzione speriamo finisca prima o poi ecco e vedete i due gorilla c'è anche il sole in mezzo probabilmente era pensato per schermi 4 terzi perché adesso lo vedo un po spaparanzato come programma come il sole vedete non è un cerchio ora c'è il vento che soffia verso sinistra dobbiamo specificare l'angolo ma lo conoscerete sicuramente se avete avuto un pc negli anni 90 quindi angolo 30 velocità 10 ecco mi sono distrutto e kong ha vinto non avevo idea che fosse tocca a kong comunque kong ha già fatto un punto proviamo a fare un lancio di 45 gradi e la velocità bisogna esagerare facciamo 10 mi è caduta in testa prima quindi 120 120 è passata sul sole avete visto che il sole ha fatto una smorfia allora di nuovo 45 però proviamo con 60 quasi non non era male 60 allora 45 e proviamo 50 troppo corto allora 45 e proviamo 50 da questa parte è troppo corto effettivamente quindi 45 60 ci stiamo divertendo tantissimo anzi forse meglio 70 perché sono un po più in basso no non è facile come gioco e vedete 45 non mi ricordo più cosa avevo fatto 65 ma che era era 55 45 facciamo ecco ci ha distrutti nuovamente ha fatto due punti e direi che possiamo terminare qui anche se in realtà ci dovrebbe essere il terzo punto da conquistare voglio almeno un punto metterlo a segno 60 100 è andata va bene questo era gorillas che non so neanche come chiudere ecco ci siamo riusciti è sparito tutto ma adesso è tornato andiamo finalmente a vedere la befana vien di notte con le scarpe tutte rotte che ha creato il nostro Andrea Livi eccolo qui befana aiuta la befana a preparare le calze da portare ai bambini cerca di raccogliere cioccolatini caramelle lecca lecca e gli altri ghiotti dolciumi ma attenzione nello spericolato volo sulla scopa cerca di evitare il carbone premio un tasto per iniziare il volo ecco prima di vederlo vediamo se riesco ah ecco potevo modificare potevo modificare le dimensioni premendo il tasto in effetti mi aveva avvertito volevo andare a vedere con voi il fatto che ecco qui vedete che ci sono degli sprite sheet che si possono usare e quindi vedremo la befana i 5 frame che vedete lì in alto e poi questi oggetti che cadono che rappresentano vari oggetti quello più a destra è il carbone e poi ci sono c'è questa calza che si allunga lì in basso perciò è realizzato con gli sprite e ci sono anche dei suoni e allora abbassiamo un po' perché sarà probabilmente troppo alto allora premiamo un tasto mi pare che sia giusto così allora vedete ci sono davvero delle musiche stratosferiche stiamo subendo tantissimo volume altissimo nelle mie cuffie probabilmente anche voi se non parlo si sente troppo la musica e vedete che sto rastrellando quanto più possibile cercando di evitare ho preso anche il carbone rastrelliamo ancora un po' di cose scusate ma ecco qua ora vedete che la calza si sta allungando tantissimo e dobbiamo ho preso anche tanto carbone è velocissimo probabilmente la temporizzazione va un po' modificata dipende dal computer su cui viene eseguito il programma penso e quando è che finisce? ah è finito vedete quanti punti ho fatto 117 punti grazie grazie basta applausi non so se li avete sentiti ma evidentemente se si fa un buon punteggio ci sono gli applausi vedete che ho perso 36 punti perché ho preso 4 pezzi di carbone e poi ci sono gli altri pezzi che continuano gli applausi si stanno esaurendo ricominciano gli applausi bene questo è il gioco che ha proposto Andrea Livi e speriamo vi sia piaciuto probabilmente se mi darà il link lo pubblichiamo così ci potrete giocare anche voi se volete e magari vi mette a disposizione anche il il sorgente così potete dilettarvi con Quick Basic direi che possiamo chiudere qui stavo guardando un po' le varie risoluzioni non so se questa è quella nativa perché mi sembra un po' stretto forse anche lui ha realizzato il gioco non per i 4 terzi ma per i 16 noni e poi c'è la versione in finestra che adesso comparirà bene ecco il Quick Basic che troverete qui sotto in descrizione come recuperare qui ci sono tanti esempi con i sorgenti a disposizione guardate quanti esempi trovate anche Gorillaz qui da qualche parte eccolo qua Gorillaz della Microsoft proprio era un esempio all'interno del del linguaggio stesso del del compilatore e c'è anche ci sono tantissime cose quindi vale la pena dargli un'occhiata se conoscete il Basic potete Xwing chissà cos'è questo Xwing comunque ci sarebbe anche la versione in JavaScript che può essere per esempio se io andassi qua in basso Xwing vediamo se se funziona con Play probabilmente ci vuole un browser che non è questo che ho io lo sto eseguendo su Edge magari su Firefox o su Chrome funziona perché probabilmente dovrebbe funzionare ma è ancora sperimentale il supporto per il browser quindi in pratica grazie a QBasic 64 potreste creare giochi per Windows oppure vedo anche che funziona su Linux Mac OS quindi anche per quelle piattaforme probabilmente e anche per JavaScript appena saranno riusciti a renderlo un po' più stabile questo QBasic JS qui sembra che funzioni ma probabilmente ci vuole qualche qualche altro browser vedo qui la sandbox run tool proviamo print 10 run missing no print 10 non funziona possibile come si scrive print 10 così poi run missing ignora la linea proviamo così l'ha scritto vedete funziona in effetti probabilmente eccolo qui vedete ha scritto 10 potremmo fargli scrivere ciao mondo col punto esclamativo ovviamente ciao mondo l'ha scritto quindi funziona ma bisogna vedere come mai forse quelli grafici hanno un po' più difficoltà ad essere realizzati comunque QBasic è qui abbiamo visto la Befana raccogliere tutti i dolcetti che cadevano e a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione buona epifania e ci si rivedi in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti